dentro il pallone per campoi dentro per matamoros grandissima uscita con i tempi giusti di ducci raffinia per bagadini tornatore straordinario in uscita dire di no alla conclusione di bagadini rossetti campoi arriva in corsa e calcia ducci in due tempi possesso in rimessa raffinia grande imbucata qui di matamoros per campoi ma c'è ducci due volte altra grande prestazione di grande solidità per daniele ducci prova a andare da solo col destro che prova a spingere centralmente arriva selusio controllo ancora da vava paratona di pietrangelo dener su rappone a zoni dal cinna in tuffo allontana ande chiusura a sua volta di giapa poi schiocchette la palla resta lì guanfran prova a riproporla ma la regala caponigro caponigro pietrangelo altro giocata ma la ruba già paviera che va via appoggio su ton dal cin la palla ancora lì si sanguina parecchio di solito quando ti sbucci selusio grande destra incrociale altrettanto bella la risposta di lorenzo pietrangelo taborda lo schema con la parata di tiago perez all'intervallo danici c'è destro la prende che il tecnico fausto scherpitti intanto taborda subito con la parata di tiago perez altro ruolo di dal cene il sinistro con la deviazione di tiago perez poi borruto l'appoggio ancora borruto lo spazio la conclusione tiago perez si oppone al passaggio prima di salsa abate spazio prova a puntare avversario abate dal cene destro e spindola si oppone toni dandello ancora tiago perez pasetti poi ritorna sui passi conclusione di pasetti che trova l'angolo manna mia anticipato maluco duarte riparte situazione 3 contro 2 contro piede del real duarte prova la botta martino respinge poi all'intervallo alleggerisce di testa chiede spazio salta ercolessi ancora attenzione vinicius non si chiude il triangolo poi arriva di ogo con sinistro che parata di bello buono verso maluco nel cerchio di centrocappo che trova ora l'inserimento di calderolli bello buono con i piedi guti prova a liberarsi di ghi guti ci riesce calcia col destro mammarella non tra casassa gli arriva praticamente addosso per parare questo tiro ora ghi è scatenato col tacco ancora un'altra suolata di coco smith palla su di coco smith che era anche questa angolatissima metà con i piedi preciso per ghi che ancora lotta contro isi poi il tiro di coco smith ci mette la sua stampa per controllare il pallone andrè ferreira ancora morgado con l'esterno andrè ferreira col destro angolato murillo che lo anticipa serve maltauro maltauro col sinistro qui ci murillo murillo col sinistro uno a uno equilibrio ancora totale maltauro carica il sinistro si salva il pescara qui la palla per portuga mammarella a un 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 un